Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Cenda Lukaku parla anche Lautaro Martinez ebbene si il toro argentino fresco capitano dell'Inter torna sull'argomento perchè è stato deluso dal suo coinquilino in attacco poi aveva formato comunque una coppia ben affiatata ora Lautaro si sta mettendo alla prova anche con Marcus Durham delle intese chiaro è che è rimasto deluso dal numero 90 perchè Lautaro ha un legame un legame più forte col numero 90 l'ha cercato di chiamare nei giorni di caos come tutti i compagni di squadra ma il numero 90 aveva staccato il cellulare Lautaro deluso poi però finisce è una sua scelta e io l'accetto per quanto sia sbagliata ha detto così ok è una sua scelta e anche ovviamente è inutile dire che sono d'accordo con me i giocatori perchè sono stati i primi a chiamare Marotta di questa cosa e niente questo è un buongiorno così non me ne aspettavo ma forse anche si le parole di Lautaro sono tutte qui lasciate un like commentate iscrivetevi al canale non mi stupirei parlasse qualcun altro tipo un barella dicesse qualcosa su Lukaku per fare dei video per smerdare ancora di più numero 90 tutto qui io vado al lavoro e ci sentiamo in giornata e guida dai curvole tutto niente a pomeriggio grazie